Samuel Di Carmine è pronto ad intraprendere una nuova avventura con la maglia della Catania, la maglia numero 10. Benvenuto Samuel. Grazie mille, sono felicissimo perché questa avventura mi porterà grandissimo entusiasmo e spero di ripagare la fiducia della società di tutti quanti dal primo settembre. Questa maglia numero 10 ti è stata affidata da qualcuno, ci racconti l'aneddoto? Intanto ringrazio Ciccio dei messaggi perché con questi messaggi mi ha fatto capire cosa potrà essere Catania per me, cosa significherà l'impegno che dovrò dare per questa maglia. Lo ringrazio e mi ha detto di mettere la sua 10 perché per me è stato un grande onore e anche per il mio numero fortunato e quindi non ha spinto in più per prenderla. Avete vissuto un'esperienza insieme calcisticamente? Abbiamo giocato un anno insieme, sì io ero ragazzino, però con me è sempre stata una persona buona, mi ha sempre aiutato e poi Ciccio lo conosce tutti, lui è questo. E Samuel Di Carmine invece chi è? Questa è una domanda complicata insomma, sono un ragazzo normale, lo dico sempre, sono un calciatore atipico, mi piace molto vivere la città con la mia famiglia e i miei figli e in campo mi piace fare gol, questo è quello che spero di fare il più possibile quest'anno. E la tua seconda avventura in questa categoria, come nasce, su quali presupposti? Ma con grande entusiasmo perché avevo bisogno di questo, dopo due anni particolari soprattutto fuori dal campo, la società, il presidente insomma hanno fatto sentire quello che avevo bisogno io. I tifosi li ringrazio pubblicamente adesso perché si può sentire il loro amore e per me è tutto per fare una grandissima annata quest'anno. Qual è il quid in più che Di Carmine potrà garantire alla squadra, al Catania? Ma più che altro io spero di fare tanto bene, insomma mi sono rimesso in gioco, vorrei dimostrare chi è di Carmine a tutti quanti, so che ci sarà un po' di scetticismo sul fatto della mia età o che magari negli ultimi due anni ho fatto pochi golle, però credo che con questo entusiasmo e con quella squadra posso fare di nuovo bene. Chi conosci dei nuovi compagni? Conosco Beppe Rizzo, Curado e Mazzotta, abbiamo giocato insieme tutti e tre. Ho voluto indossare subito questa maglia, ti piace tanto? L'ho subito indossato perché mi piacciono i colori e mi sembra Midoni, quindi sono contento. Conosci il girone perché con la Juve Stabia comunque si è andato in doppia cifra? Ma l'ho già fatto, so che è un giurone difficile, quest'anno sembra ancora di più perché c'è tante squadre forti, però con il lavoro quotidiano e con l'entusiasmo diremo la nostra. Qual è stato il concetto che ti ha colpito di più nell'ambito del dialogo che hai avuto con la dirigenza? Ma ti dico, questa è una trattativa lunga, più o meno un mesetto è stata, però tre giorni fa mi ha chiamato il direttore per la prima volta e due giorni fa il presidente e da lì per me è stato chiaro che la scelta era Catania. Cosa ti hanno prospettato? Ma più cosa mi hanno fatto sentire importante, l'entusiasmo intorno a me è quello che potevo fare e questo per me, dopo due anni difficili, era tutto. Una sola partita in carriera al Massimino, Catania-Verona, Coppa Italia, finì 2-0, cosa ricordi? Mi ricordo bene quella partita e mi ricordo quella bella tifuseria che c'era e spero tanto di vederli il primo settembre di venerdì contro il Crotone, che ci caricano al massimo, sarà un'emozione grandissima e spero di dargli tante soddisfazioni da qui alla fine.